Mi chiamo Notar Francesco Antonio, ho 67 anni, la difficoltà era che i denti incominciavano a muoversi e cadevano così, pian piano, man mano. Prima, quando avevo la protesi, logicamente avevo sempre timore di parlare, di ridere, nonostante ero un personaggio diciamo un po' pubblico, avevo sempre questi timori, però adesso se avevo 67 anni adesso me ne sono 50. Dopo quando mi hanno messo i provvisori e che sono ritornato in Svizzera sembravo un ragazzino già con i provvisori, adesso proprio è il top dei top. Sicuramente, assolutissimamente lo consiglierei perché un trattamento così non credo che si possa trovare da un'altra parte. Ho amici che mi hanno chiesto anche giù in Basilicata nel mio paese nativo, ho fatto vedere e si stanno convincendo. Penso che fra sei mesi quando torno qualcuno lo porterò sicuramente. Però mi sono sentito come a casa, molto curato dal personale, molto gentile, proprio non c'è nulla da dire diciamo, tutto in positivo e niente di negativo. Sono molto più avanzati di noi come tecnologia, quindi puoi stare tranquillo e ti puoi affidare totalmente. Di fatti poi io quando ho visto in laboratorio, cioè una cosa veramente in avanzata dove noi nel sud, specialmente in Italia, ancora non. Essendo un personaggio un po' pubblico e allora pubblico intendo perché faccio come hobby il cantante, allora diciamo i fan ce l'ho e questi fan appunto vedendomi con un nuovo sorriso, con un aspetto più felice, più sicuro, specialmente nel pallare e quindi sono convinti anche loro che ho fatto una cosa buona. Sono convinto di convincerli chi ha bisogno di fare una, di venire qui del dottopalmati.